Vanno a Stamura Ancona e Club Castelnuovo scrivi ai titoli di campione d'Italia 3x3 under 16 assegnati a Castellana Grotte nella settimana dedicata alle finali giovanili della disciplina. In campo per primi i ragazzi delle classi 2003-2004, la manifestazione è organizzata da FIP Puglia e si svolge sui campi allestiti in Piazzale Anelli, a pochi metri dal complesso carsico famoso in tutto il mondo. Si risolve al tempo supplementare la finale maschile che incorona Stamura Ancona, vincitrice su Scandone Avellino per 15-14. L'ultimo tentativo campano nei 10 minuti regolamentari si infrange sul ferro ed allora lo scudetto prende la via delle marche al supplementare. Il canestro decisivo è di Nicolo Gaeta che può così esultare assieme ai compagni di squadra Edoardo Anibaldi, Tommaso Bartolucci e Santiago Moltedo. Terzo posto per palacanestro Don Bosco che piega Vado per 12-9 chiude in quindicesima posizione. Lions bisceglie. Il tricolore femminile va invece a club Castelnuovo-Scrivia che supera San Raffaele-Roma per 15-10 con il quartetto composto da Lisa Bassi, Francesca Barnetti, Sofia Bracco e Siria Ferrari. Piemontesi sempre avanti ma capitoline mai dome brave a recuperare fino al 10-12 prima del nuovo allungo di Scrivia. Podio completato da Lupe San Martino che si aggiudica alla finalina per il terzo posto contro palacanestro 95. Varese per 15-9. Undicesima piazza per Bolo Rosa-Brindisi. Dopo un giorno di pausa le finali giovanili riprenderanno domani con l'Under-18 ma già a metà settimana può tracciarsi un bilancio molto soddisfacente visto l'apprezzamento di atleti e addetti ai lavori per lo scenario naturale di Piazzale-Anelli.